Allora, tornavamo da Pompei con il treno della circonvesuliana delle 16.47, arrivati a Castellamare di Stabia ci hanno fatto scendere dicendo che c'era un problema sulla linea, non hanno dato comunicazioni di come e quando avrebbero risolto il problema, abbiamo saputo da passeggeri che venivano dalla direzione opposta ed erano sulla Campania Express che il locomotore del Campania Express ha avuto un guasto e buona parte dei passeggeri sono stati fatti scendere nel tunnel in qualche modo rocambolesco, salire sull'altra carrozza funzionante che è stata trainata poi fuori dal tunnel. Da quanto tempo state aspettando qui? Allora, noi siamo arrivati qui che erano le 5.15, molte persone si sono ritrovate sulla piazza e la stazione senza sapere se avrebbero organizzato mezzi di trasporto alternativi, le informazioni sono state zero, scarsissime. In sostanza a un certo punto qualcuno ha gridato all'interno della stazione Sorrento e la folla si è riunita all'interno della stazione per riprendere i treni. Per quel che ci riguarda abbiamo chiamato l'hotel a Sorrento dove siamo ospiti per organizzare un transfert privato. Stamattina abbiamo deciso di visitare gli scavi di Pompei con grande soddisfazione. Penso che tutti i campani non meritino questo tipo di trattamento. È una brutta cartolina per tutta l'Italia e il turismo in generale. La ringraziamo. Arrivederci.